Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Elezioni provinciali. La linea del Movimento 5 Stelle è stata ed è niente liste niente voto. Ma il consigliere comunale pentastellato di Avellino, Fabio D'Alessandro, ha detto per quanto mi riguarda bisognerebbe votare. Con il peso politico che abbiamo potremmo anche eleggere un consigliere o indirizzarci sul candidato del centrodestra, per esempio su Giovanni Romano o Damiano Genovese. Cosa dire? Evviva! E meno male che Casaleggio a Milano, Di Maio e Fico a Roma e Sibilia ad Avellino si sgolano a ripetere che i 5 Stelle non sono né di destra né di sinistra. Ah, scusate, il D'Alessandro parlava di centrodestra. Grazie a tutti.